Quest'oggi vi presento il primo di una serie di video dedicati alla meravigliosa storia dell'invenzione della penna Biro. Naturalmente partiamo con l'aslo Biro e i suoi inizi, le prime scoperte e la prima intuizione verso questa magnifica invenzione. Vi ringrazio di essere qui, vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, condividere e anche commentare. Non vi resta che augurarvi buona visione e a presto. L'aslo Josef Biro nasce a Budapest il 29 settembre del 1899. Abitavano quindi con la famiglia nella capitale ungherese in Neymaze Ustra 24. La famiglia era composta dal padre Moses Matthias Schweiger, che cambia poi però il nome in Biro, dalla madre Janka Ullmann e da lui Laslo e da suo fratello Gheorghi, che era di due anni più vecchio, due caratteri assolutamente diversi, ma complementari, che si amavano, si stimavano, che però avevano assolutamente due modi completamente diversi di intendere la vita. Infatti, subito dopo la scuola superiore, suo fratello Gheorghi mostrò l'intenzione di seguire le orme del padre, che era un affermato dentista, e quindi diventò dentista anche lui. Invece Laslo mostrò fin da subito un carattere e delle inclinazioni assolutamente speciali e diverse, e cominciò ad inseguire il suo talento, che era proprio quello di cercare di inventarsi la vita, giorno per giorno, di inventare, di svolgere un percorso creativo proprio sulla sua persona. Forse era ciò che il padre avrebbe voluto fare da giovane, che per hobby infatti si dilettava ad inventare, e che però non aveva mai avuto il coraggio di farne una ragione di vita. Per intanto Laslo fece i suoi studi al liceo statale reale ungherese, che tra le altre cose frequentò nello stesso periodo di Gabor Dänesch, che fu il futuro vincitore del premio Nobel, inventore dell'ologramma. Ma purtroppo si avvicinava per lui e per loro e per l'Europa intera un periodo buio, in cui c'era poco da inventare, e Laslo fu chiamato alle armi. Finita la guerra si iscrisse a medicina. L'anno seguente lasciò però l'università. Voi, per le esperienze durante la guerra, per essere stato a contatto con persone che avevano subito traumi tali da dover impazzire, o per il fatto che l'interesse per il subconscio stava maturando in tutta Europa, si diede all'ipnosi, con buoni risultati, se non che dovete un giorno abbandonarla, perché durante una seduta l'ipnotizzato ebbe una tale crisi cardiaca da dover essere soccorso ed essere salvato in tempo dai medici che lo assistevano insieme a lui. Abbandonata l'ipnosi, nel corso degli anni venti, intraprese i mestieri occasionali che influirono fortemente e aiutarono la sua creatività a trovare sfogo. Fu pittore, scultore, agente di borsa, ma soprattutto giornalista. Cominciò a scrivere per alcuni giornali e poi a lavorare stabilmente per uno di essi. La testata era Le Leure e questo diede a lui l'opportunità di viaggiare, soprattutto in Austria, fortunatamente non più come soldato. Ma come sottofondo di tutte queste attività ardeva sempre dentro di lui la braccia della scoperta, dell'idea da cogliere per regalare al mondo qualcosa che prima non c'era. La lavatrice a vapore fu brevettata in quegli anni. Si collegava direttamente ad una stufa, ma il suo brevetto più clamoroso fu un motore con il cambio automatico. Facciamo un passo indietro. Si innamorò di una Bugatti, di proprietà di un attore. La comperò, ma dopo poco tempo dovette venderla, perché non riusciva a sostenere le spese. Ma la cosa importante è che, stanco di dover sempre pigiare la frizione per il cambio marcia, ebbe l'idea della realizzazione di un motore a cambio automatico. Con l'aiuto di un meccanico lo costruì e lo montò sul suo sidecar. Nel mondo delle invenzioni, soprattutto nel mondo delle persone che si adoperavano in quel periodo per la crescita tecnica e per l'innovazione, si creava una particolare rete di conoscenze, per cui le cose si sapevano abbastanza in fretta in quel mondo. Fatto sta che i funzionari competenti di Opel, proprietà della General Motors, vennero a conoscenza del suo lavoro e, avuto un contatto, lo invitarono a Berlino per conoscere meglio il suo brevetto. Percorse con il suo sidecar, con il cambio automatico montato, i mille chilometri che separavano Budapest da Berlino, e si presentò a loro con una invenzione assai rodata. L'accoglienza fu fredda. Lui se ne andò quasi con la coda fra le gambe. Tuttavia, quando ritornò a Budapest, ricevette l'offerta in cui la General Motors si impegnava ad acquistare i diritti del sistema e accettava di pagare a lui, l'aslo biro, 200 dollari mensilmente per cinque anni, dandogli una commissione dopo ogni pezzo venduto. In realtà, la General Motors non aveva nessuna intenzione di produrre il cambio, era solo un modo per acquisire da parte sua il brevetto e impedire che lui lo proponesse ad altre case automobilistiche. Il suo modello non fu mai prodotto, ma l'entusiasmo era tantissimo e l'aslo firmò il contratto. Questo per tratteggiare lo spirito di passione sincera, al di là del profitto che covava all'interno di questa persona, a volte irruenta e altrettanto ingenua, sempre concentrata più che sulla realizzazione dei soldi, sulla realizzazione del prodotto. E' interessante capire quanto l'ingegneria sin da subito lo attrasse e gli consentisse la possibilità di aprire a lui a porte insperate. Si sposò nel 1929 con Elsa Schick e nel 1932 nacque la loro figlia Mariana. Lui era un giornalista, faceva parte di una redazione di un giornale e la scrittura era un'attività giornaliera e lo strumento della scrittura però dava non pochi problemi. La sua appena stilografica Pelican, che amava ma che non sopportava che macchiasse sia le mani che le pagine su cui scriveva e forse la sua maldestrezza a maneggiarla, furono determinanti per stimolarlo a trovare, a pensare qualcosa di nuovo e di risolutivo. I problemi da affrontare erano due, l'inchiostro che si seccava e le macchie, le macchie che erano dappertutto. Cominciò la sua ricerca, si interessò su a che punto fossero i progressi e se qualcuno avesse cercato di ovviare a questi inconvenienti insopportabili da parte sua. Lui stesso aveva cercato di brevettare una stilografica nel 1928, con risultati però scarsi. Nel 1888 lui venne a conoscenza che uno statunitense, un certo John Loud, aveva brevettato una primitiva penna a sfera per scrivere sulla pelle e su altri materiali ruidi, ma non adatta a scrivere sulla carta, probabilmente usata quasi come un pirografo. Altri avevano cercato questa strada, però con risultati catastrofici. Fu nel 1937 che decise che la sfera fosse definitivamente la strada maestra da cui partire e poter sviluppare il suo progetto. La leggenda sconfessata dallo stesso Biru della biglia dentro una pozzanghera che una volta uscita da essa lasciava la scia dietro di sé, rimane solo una leggenda. L'intuizione che gli studi non si dovevano concentrare solo sulla sfera ma anche sull'inchiostro, gli venne un giorno in tipografia. L'inchiostro del giornale, appena uscito dalle rotative, non macchiava e si asciugava subito. Non solo, ma la sfera doveva essere libera e poter andare in ogni direzione, proprio riproducendo in miniatura quello che facevano i cilindri rotanti, usati in tipografia. Era ora di coinvolgere qualcuno, di sentire il parere di qualcuno. Aveva a che fare con i materiali, i materiali che non conosceva e che quindi aveva bisogno di confrontarsi. Presi gli schemi a cui stava lavorando, da giorni, andò a trovare Imre Gellert, che era un suo amico, che aveva degli studi tecnici molto raffinati. L'amico lo ricevette e fu pensieroso, mentre Laszlo gli parlava della sua idea e gli occhi di Laszlo erano speranzosi altrettanto di ottenere una risposta sperata. L'amico gli disse che l'idea era buona, ma da qui a realizzarla, prese in mano gli schemi, gli analizzò per una buona mezz'ora, dopodiché alzò lo sguardo e disse con un sorriso. Bello, è bello, non facile, ma bello. Allora entusiasta Laszlo gli domandò subito, e quindi saresti disposto a partecipare a questo progetto?